sono state aggiunte tre armi di ford riti bellissime 3 place hai pure studiato di quali sono allora mi ricordo il caccia e l'avuto la fucile e va e donna c'è un oggetto è facile arriva dall'anno l'assalto aereo bravo l'attacco attacco aereo e si va bene c'è uno che ti piccola meglio occhio è di passare liscia ma siamo subito no raga l'arma preferita di place per abbattetelo vai a un ucciso ucciso subito mia è mia la cassa mi ha trovato l'arma di place sì sì ma la prima cassa trova il poverino ma comunque è la pistola vicina e il voto ancora la pistola fossile la mia roma preferita c'è un po lo quattro virgola 1 cosa vuol dire che no no vabbè il botto non va a bel buon e faccia anche aiuto scappiamo dal bot scappiamo che sia assoluto voglio sapere la vuol dire la mia arma preferita 0,1 vuol dire tipo che prima c'è questa e poi c'è il quale lanciarazzini a quindi ti piace di più lanciarazzi a ok invece hanno appena aggiunto il caccia ragazzo che la mia arma preferita numero proprio uno ed è bellissimo quindi oggi faremo un sacco di no scoop non perdetevi anche video domani dove faremo solo una partita con il non scoop quindi piace mi sa che farà 0 da vero non mi avevi detto questo è ragazzo ma non ci sono mi dispiace domani tu ci sei dal che salta sulla navicella che sparano uno shield arrivo 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 subito c'è pure un'armata da lontano per fare lo scelte che magari spariamo nel frattempo no ma vantare ad aspettare ma c'è voi non mi avete aspettato per farlo scelte ma siete però sono no è più di gente cavolo è più di gente arriva subito da voi gli aiuto di usciano sono morto no place è per favore 100 per cento placenti prego se i nostri scherzo sono vivo al 90 per cento boh distrutto ottio ragazzi ho tirato una serata con la pistola e questo se la ricorda di ordinario mamma mia o c'è un altro giornato super di me italia intanto mi curo con la tenda è ma con calma arrivo con calma albite risvegliare non sto scherzando no no ci sono già fatto 4 chi sta partita bravo ma dove è l'ultimo non lo so a stavolta riportando arresta aspettate aspettate vado a push arlo vado più c'è gli tiro una cecchinata in testa ma l'auto morta morta me ha tornato ragazzi non mi ha fatto usare ragazzo di assalto e basta avete qualcosa perché la città dei colpetti orco vai vai ci diamo tutto ragazzi adesso faccio una cosa assurda che pochissimi hanno il coraggio di fare boom mi sono salvato con la pistola fossile applausi applausi gente da me raga bombe lancia arrivo 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 io sto per morire attenzione buon fatto in faccio questo la ricorda per anni ho fatto un'altra pistola fossile ma anche io raga che cavolo è sopra di me c'è un elicottero è anche se voglio infusciare ho distrutto bravo 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 raga distruggete l'elicottero no no l'hanno lasciato l'hanno lasciato ok allora rubiamolo noi mag prendi lo prendi lo che così sembra quando io lo prendo io lo sai non volo spara di spara di capito ragazzi scendete scendete un è morto no no non tranquillo pensa uccidere i nemici a posto che dove dove sono i nemici sono qua sotto sto sparando la mezz'ora ok vai boom 90 piccoli euro a terra bravo niente sicuramente aspetta un altro aiuto c'è un altro occhio raga 19 19 faccio uno scoop assurdo adesso fallo fallo in oscuro che l'umanità più bello è mai visto che l'umanità più bello perfetto eccolo è il più forte del mondo vedere oddio bravo piacere non è nato vabbè riuscita ad ucciderlo straisi no perché o meglio stai facendo sono un attimo un po in problema problema tecnico è un barile dello shield aspetta e se vieni 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 ok ci siamo ci siamo dobbiamo andare a pushare questo tizio sopra ok è nati un attimo vi prego raga non morite ma è sotto calmi hai sotto mi sembra no io non lo vedo sinceramente non è stato no 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 non è lì e 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 lì andiamo pushare il tagliato e poi lasciamo in aria ragazzi vai proviamo proviamo anche se mi sembra un po di dove dovete vero vedo 25 il caraccato l'ho distrutto il 17 white non lo vedo neanche io no ha ritratto di nuovo la sera legale ragazzi e lui vai 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 la seriamo l'inaria che sta volando plage è un attacco l'hanno visto 29 visto 29 c'è una volta sulla ciao è lontanissimo è sparito è vabbè niente questo qua c'è ma due rift come cavolo è un pazzo comunque ragazzi ci manca ancora l'attacco aereo da trovare è per fortuna direi che non hanno veramente brutta no è bellissimo c'è dico da trovarsi contro dai contro infatti la dobbiamo trovare noi e farò che gli avversari quindi ragazzi cerchiamo questi cacchi di attacchi aerei e usiamo lì contro il mio posto stanno rebuttando stanno rebuttando o che ha chiamato occhio non me aspetta eccolo eccole fermo c'è shot bravi bravo ma è esploso subito sì sì è morto subito quindi sì sì non ha nulla di interessante prova tra poca vita ragazzi non pusciatevi prego è morto uno bravo è pieno di pieno di gente e pieno di gente no ho provato a cecchinarlo ma ne occorre in sé ragazzi o per poi corri corri che sennò muori dalla safe noi ci pensiamo i nemici e vabbè e vabbè ragazzi no io no io sono morto no raga no per favore non morite adesso morto porca vacca vabbè io sono messo salvo me che viene verso di me viene verso di me che provoca la gente e vabbè ho 50 di vita in totale no ragazzi sono messo da dio e li uccido tutti tranquilli forse va bene li uccido paum morto wow che è giottone potresti lanciare lo scendone assolutamente sì tieni aspetta le lancio addirittura 3 1 2 arriva l'attacco aereo arriva l'attacco aereo no tranquillo non c'è fatto nulla vabbè ragazzi mi ha settimata sirio non so cosa abbia sentito raga andate a restare no sirio non sto parlando con te un secondo ragazzi bene raga fregati freghiamo ce ne freghiamo ce ne restiamo il nostro amico no no qui guida e non so io raga come facciamo capi andate ci provo ci provo a aiuto fuoco incrociato fuoco in vai 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 si sparano tra di loro buono 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 vai perfetto riusciamo a restare ragazzi un castello facciamo tutto pum più o meno si è fatto ora c'è dietro aspetta morto uno mi sparo in aria o dirà che ho cecchino tu in testa con la mia arma preferita attenzione ma qua c'è un botto di bank becky mecky mecky c'è gente sulla casa eccolo un altro ma io c'ho una sfiga che imbarazzante aiuto e aspetta no raga è tostissima dove ho capito come cavolo facciamo da noi ti prego ti sono nata dove mi sparano ora ma voi state fai tanto un altro team si 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 arriva 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 aiuto sta partita difficilissima ma ma non ci credo ma sta scherzando non ci riempi amore buttare buttiamo plaza aiutami aspetta magari facciamo tipo così è vero direi ormai bisogna raga non ho mai scollato così tanto per forte sopra spaccare il monitor che è perfetto forse può incidere il fatto che abbiamo registrato studio più o meno 30 forse 11 di visita no 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 tranquillo ci sono io con no 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 dai ma è stata una bella avventura cari compagni del team aspetta sono molto molto rauo aspetta che mi devo prendere minuti di place è un capitolo non è facile non cava 0 devono andare sì se non ti fa meglio 80 hp忍p aiuto 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 bravissimo no sotto no perché sennò come cacchio esco anche sotto devo andare in safe aiuto aiuto mitico mi deve aiutare non lo so come mi deve aiutare però c'è un zero mazzo di euro grande giocata calpi ma è un palazzo io ho i materiali ma la mia è la mia fine la mia fine capito scelto aiuto basta fermo calpi non fai fare porta la posizione più avanti ok così cosa vuoi dire mi prende i punti di posizione vai vai prende i punti di dai che dobbiamo con le stracce la fnc è no raga li uccido tutti tranquilli tranquilli cosa ma parca ma comunque abbiamo fatto un bel po di chi sa morti 46 volte ho spaccato il monitor finora raggi ha tirato un pugno proprio in mezzo la partita più bella della mia vita anche un po più sfollante comunque grazie per essere stato 8 volte ovviamente codice calpis dei negozi oggetti e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao